La canzone che arriva adesso, anche questa manca da tanto nel mio repertorio, anche perché gli altri più accaditi mi dicono, ma sai, fai sempre le stesse canzoni. Allora, questo è un aneddoto che ho raccontato, dove eravamo a Marlonca, mi parlo, forse. Comunque mi trovavo a Venezia, in un bel ristorante, e quindi arriva il padrone e mi dice, senta, ci sono quattro brutticenti che vogliono vederla, e dico, le faccio entrare. Ma è sicuro, mi dice, sono sicuro. Entrano quattro cavaliere dell'Apocalisse, con i capelli lunghi fin qui, stupendi, e mi dicono, super giù questo, senta, la sua canzone in Kurdistan è un successo pazzesco. Lì non si vendono dischi, naturalmente, è in passaparola. Perché ho cantato le gesta di Mustafa Mullah Barazani, questo kurdo. E quindi un italiano, che era una specie di festa nazionale, arriva questa canzone che si chiama Strade dell'Est. L'Apocalisse 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 strade dell'est, d'immensi orizzonti, città nascoste di lingua persiana, da qui la fine è. Dicono storie di principesse, chiuse in castelli per troppa bellezza, fiori di loto, giardini stupendi e l'eningrado oggi. Di notte ancora ti può capitare di udire suoni di armonio sfiatati e vecchi burdi che da mille anni comprono il vento anno bene. strade dell'est, d'immensi orizzonti, d'immensi orizzonti. strade dell'est, d'immensi orizzonti. strade dell'est, d'immensi orizzonti. strade dell'est, di un grande, strade dell'est, d'immensi orizzonti, di un breve, strade dell'est. Grazie a tutti